sei pronta mia certo che lo sono alex attento alle mani insetti pericolosi iniziamo l'esperimento guarda i denti pericolo queste sono super termiti rinchiudiamole è ora di cenare anche per noi super insetti tenite vi mostro il mio castello termiti potreste aiutarmi a temperare le matite wow sono super veloci e affilate mila andiamo a disneyland arrivo papà grazie papà divertitevi ragazzi oh cavolo cos'è questo rumore termiti sì esattamente andiamo aspetta termiti oh no 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 non il castello di mila l'hanno divorato cosa facciamo mila non può vivere in un nido di segatura troveremo una soluzione prima di tutto dobbiamo catturare tutte le termiti ho un'idea che noia vorrei che qualcuno avesse almeno uno scarafaggio pronto sì è la disinfestazione arriviamo subito sei pronto oscar quanta polvere lo sono under sono il rambo del mondo degli insetti insetti attenti a voi sbrigiamoci insetticidi umani sono qui qual è il problema le termiti hanno divorato un castello in un colpo solo esatto riesco a percepire le termiti sei un vero cacciatore di insetti quelle termiti si pentiranno di essere nate cos'hai fatto oscar le termiti hanno mangiato la porta non volevo basta così siete licenziati e ci dovete una porta la sistemeremo non preoccupatevi tutte le termiti saranno fermate costruiremo un nuovo castello nel cielo stellato wow sembra una figata mi piace mi addipicci tu il cielo finché non torno ristrutturazione in corso terza parte dipingerò le stelle no un cambio d'abito è d'obbligo in un cantiere ottimo ma prima mi sistemo le unghie allora come va sul serio mia hai impiegato tutto questo tempo per una sola stella d'altra parte le mie unghie sono carine ok prenderò in mano la situazione bene sono pronto a iniziare vai ok al lavoro uno stensi la forma di stella sarà veloce e la vernice gialla sarà brillante iniziamo con la cucina sono cui aspetta che stiamo cercando e perché siamo in cucina io farò i piatti io metto su il bollitore il tè è pronto ecco la merenda panini oh cos'è stato giusto le termiti maligne hanno mangiato le sedie prendete questo cattive ecco fatto ecco accidenti hanno mangiato la mia arma si salvi che può e io farò delle nuvole leggere taglio wow Alex guarda questo cielo stellato sopra di te magico presto avremo delle nuvole manca la luna la faccio subito ecco la mia mezzaluna le mie nuvole sono pronte non resta che attaccarle al cielo uno, due, tre, quattro e ora magia delle nuvole una parete di nuvole ma come hai fatto? non male la mia luminosa luna gialla il tuo posto è qui accendi la luce forza molto meglio le mie dolci nuvole beh direi che è un'ottima parete Alex ora passiamo alla fase successiva guarda ho la pianta del castello allora ti piace? dammi un secondo ecco il mio progetto piano ecco a sinistra e a destra qualche riga qui tada ora vedrai tutto mia vieni qui e guarda allora ti piace il mio castello? oh tutta questa grandezza mi ha fatto girare la testa ti piace? sì mettiamoci al lavoro per prima cosa dobbiamo costruire la struttura oh sì possiamo costruire un castello 3D usando la mia penna 3D ma sei seria? non esiste ragazzi aiutatemi se questo video raggiunge i 100.000 like costruiremo il prossimo castello con una penna 3D scrivetelo qui sotto e mettete un like mia passami un pennarello per favore oh yeah è ora di fare a pezzi tutto Alex posso avere qualcosa da segare? ok ecco una trave ottimo lì ma abbiamo una missione cruciale Alex posso? Alex vorrei aiutarti Alex va bene mia ecco tieni questa trave grazie mia togliti di mezzo come vuoi ho bisogno di sintonizzarmi sulle vibrazioni positive wow la meditazione funziona davvero mettiti al lavoro partner prima di tutto costruiamo una struttura esagonale avvitiamo le trave orizzontali come base per le pareti tienila dritta uniamo le trave in modo che le pareti non cadano una porta andrà qui allora il telaio è robusto che cos'è? termiti subdole Alex passa al ladro scuro neanche per sogno termite i Jedi ti fermeranno la spada laser è stata utile facciamolo di nuovo Alex ottimo grazie oh no la dormite Sid mi bendicherà addio insetto Vader questo è un giovane padawan promettente cosa? aiuto wow non avevo idea che gli insetti avessero una vita così eccitante cosa possiamo fare? ho un'idea era qui intorno eccolo manuale di eradicazione delle termiti 101 fantastico ora lo impareremo oh no le termiti hanno mangiato il libro che schifo questo è il materiale per fare i muri ora lo seguo no aspetta i veri professionisti usano questo bene l'abitatore è il mio migliore amico ehi lasciami andare lasciami in pace è quasi finito bello finito è un duello all'ultima finestra accetto la sfida perderai wow da paura wow ce l'abbiamo fatta si dipinge pennelli all'attacco più veloce wow è proprio fatto a mano che bel colore fatto la pittura è finita batti cinque oh aspetta mia non cadere dal secondo piano c'è bisogno di una recinzione di sicurezza qui preso oh no mancato attento fermo colla 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 e premi eccellente ecco la nostra ringhiera uniforme wow e questa farà da cornice ma dove sono le termiti? non sul letto la tua testa è piena di farfalle al posto del cervello eccole hanno usato un po' di veleno brutti insetti li hai spaventati di nuovo Oscar hanno tolto i vestiti pesanti alla famiglia gli insetti sono dappertutto piavono diamanti o cosa? wow brillantini voglio ingioiellare la mia tuta prendo in prestito un mucchio di diamanti sono perfetti per decorare il castello sembra bello Alex il castello sarà scintillante e la luce è al neon che carina vernice per favore eccellente oh Alex aiuto sono in trappola come faccio a scendere le scale? lo so tieni duro resta lì ho fatto un buco e metterò una scala scendi principessa incantata vediamo quant'è robusta la scala eccellente facciamo uno scivolo dall'altra parte forte un'altra uscita lo scivolo è pronto ottimo Alex ora abbiamo due opzioni manca solo la decorazione a diamante che scivolo elegante bene aggiungerò un tocco di lusso anche alle mie scale glamour un cuore sulle scale l'ho inventato io eccole un nido di termiti al completo distruggiamo questo club di termiti ho uno scacciamosche è troppo piccolo e la racchetta non è sufficiente ho un'arma perfetta mortello di termite ops chi è? oh no lasciami andare Agiwagi è vero aiuto ecco metti un quadro stai indietro Agiwagi così forte le grandi menti pensano allo stesso modo decoriamo il nostro castello con la stoffa wow che bella cupola questo tessuto non è sufficiente servono delle bellissime nuvole così le nuvole di stoffa non deludono mai ritagliamo l'ingresso bello il passaggio dello scivolo è aperto e io ho fatto un pavimento morbido prepariamo una trappola per termiti attiriamole con il legno rimanete sul sentiero di legno termiti affamate e finirete dritte nella nostra trappola eccolo lì sì prese le termiti sono in trappola bloccate abbiamo vinto abbiamo concluso l'affare mia sono sveglia ehi ciao la fase finale dei cuscini sono pronta il morbido letto da principessa al piano lì sopra oh vorrei che questo castello fosse mio i cuscini non sono mai troppi Alex è ora di cenare i panini sono i miei preferiti no non si mangia fuori dalla cucina ecco le termiti ordine completato ora ci aspettiamo un pagamento tira fuori i soldi Alex pensavo li avessi tu mia accettiamo del cibo come pagamento vero Amber bene ci accontentiamo dei panini grazie ciao addio signore ma chi sono questi? Mila perché devo pagare io? ragazzi chi è appena uscito da casa nostra? oh sono solo nostri amici venite dentro c'è una sorpresa che vi aspetta ok vediamo da da il nuovo castello di Mila è fantastico vuoi vedere il tuo nuovo castello piccola? wow è il castello dei miei sogni c'è anche uno scivolo mi piace da matti il mio nuovo castello ben fatto ragazzi come avete fatto a realizzarlo? non è stato difficile hai il fratello migliore del mondo siete incredibili a proposito Alex non ti sei dimenticato del tuo compleanno vero? è oggi giusto è il mio compleanno buon compleanno caro Alex ecco il tuo regalo è per me non posso crederci è davvero gli occhiali VR il mio sogno si è avverato è arrivato il momento di diventare uno Jedi oh sì che la VR sia con te è entrato nella mia stanza o cosa? il lato oscuro perderà ops dov'è la mia spada laser? uno Jedi ha bisogno di una spada laser eccola sono inarrestabile che succede lì? Alex? non è come pensi? Alex dovrai costruire un nuovo castello per Mila lasciamolo fare lui può sistemarlo inizia la missione castello eccellente sigillata e ora come faccio a entrare nella stanza? in costruzione parte 2 tutto fatto sono rimaste delle caramelle finalmente siamo a casa oh è un cartello di caramelle? a casa porta alla stanza di Mila bene diamo un'occhiata wow Alex il mio castello è tra le nuvole ci sono così tante cose Alex il tuo castello è incredibile a proposito papà il mio progetto include un ascensore no è troppo costoso solo se questo video tiene 20.000 like papà lo pagherà se questo video otterrà 20.000 like ora vi racconto come ho costruito questo castello tra le nuvole non volevo fare a pezzi tutto è colpa tua castello ok mettiamoci al lavoro prima di tutto devo sbarazzarmi di questa spazzatura ehi biscottino mi aiuti? grazie amico pan di zingero eeeh solleva sei il miglior biscotto continuiamo a pulire a quanto pare è fatta ah c'è ancora il guardaroba oh cosa abbiamo qui? il castello preferito di Mila e le nuvole? oh ho un'idea so come creare il miglior castello per mia sorella lo combinerò un castello tra le nuvole questa è un'idea geniale andiamo! addio disordine un nuovo castello andrà qui ora iniziamo a costruire siete tutti pronti? ehi tu metti giù l'ascia forza ragazzi attenzione professionisti al lavoro la costruzione è musica bel lavoro Manny è ora di verniciare questa struttura deve essere montata ora e andrà proprio così ecco ho bisogno di un aiuto ma dove lo cerco? naturalmente nell'app costruttore chi abbiamo qui? Ray la minaccia della cattiva costruzione Susie la pittrice più carina di sempre mi piaci Steve un tuttofare al 50% qualunque cosa significhi lo adoro siete già qui? così in fretta? Ray Susie e Steve ma che ti succede? avevo detto che era un mezzo tuttofare un mezzo? no non cerco nessuno che faccia qualcosa a metà vattene aspetta Alex guarda il suo bicipite il suo braccio è più forte di tutti noi messi insieme e ti faccio uno sconto del 50% sui servizi bene affare fatto puoi restare credo che Ray sia il mezzo lavoratore sembra proprio di sì sei licenziato Ray ecco possiamo iniziare ehi non puoi liberarti di me così facilmente bene andiamo avanti ecco il progetto del castello andiamo ragazzi uno per tutti e tutti il mio braccio aspetta prima di tutto il muro deve essere decorato con le nuvole ritagliate le nuvole ragazzi forza per prima cosa rissegniamo uno stencil ritagliamo lungo il contorno è un lavoro delicato non bisogna avere fretta la nuvola è pronta casa solo una? ci hai messo così tanto? io sono riuscita a fare un cielo intero wow ora va meglio il cielo è fantastico ora avvicina le fondazioni del castello forza muoviti usa i muscoli attimo lavoro Alex metti la base sulle fondazioni fantastico fantastico prendi la tradere ho il braccio rotto non posso portarla è ora di costruire la struttura ecco Steve no il mio braccio è rotto ricordi? stringiamo quelle viti venite qui ragazzi siamo stati bravissimi tutti insieme diamoci dentro ancora di più portatela qui su 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 tenete giù giù attimo lavoro di squadra fissiamo il retro ehi non riesco a tirarlo il mio braccio sai su sei adorabile ehi potete fare silenzio? colpa mia ragazzi ehi ehi vi state rilassando piccioncini? ignoralo che sfacciataggine scusa Alex ho ancora il braccio rotto sai brutto pigrone Susy continuiamo seconda strofa ecco fatto continua così ben fatto Alex buon per te ottimo lavoro ragazzi non avrei potuto fare di meglio chiudiamo la struttura bene è ora di pranzo ragazzi Steve bel lavoro di gambe è l'ora del kung fu edile sistemate il tetto ragazzi ottimo batti il 5 ti abituerai al gesso il mio metodo di costruzione preferito tieni dritto Ray dinamite e copriti le orecchie non potevi semplicemente tagliare un arco dove devo disegnare l'arcobaleno oh Steve come va Susy sei bellissima con la tutina oh Steve sei così adorabile a proposito potrei aver bisogno del tuo gesso preparati Steve non muoverti ecco il nostro arcobaleno è bello e dritto andate tutti a dipingere il castello di rosa è fantastico oh no ho le mani ricoperte di vernice modalità pioggia attiva ti devo un favore nuvoletta era un'opzione dai nuvola accenditi oh no modalità temporale ti manca qualcosa Steve ah già il mio gesso grazie Susy vuoi fare lo scherzo dell'anno Ray sei così bello quando Marta li fiodi bel lavoro ciao ciao lo scherzo ha funzionato ma non ci aspettavamo un colpo così forte sul soffitto mi fate morire dal ridere e ora che facciamo ehi Steve vieni qui ragazzi mi sono informato un trampolino ci aiuterà no 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 davvero a cosa stavo pensando tutti usano una scala ora sì che si ragiona ben fatto Steve attento Ray fissa la scala Ray ci siamo hai finito qui forza esci fate largo alla professionista userò l'imbottitura per decorare le scale altre nuvole wow è perfetta cosa faccio con il resto dell'imbottitura ho un'idea wow altre nuvole le mie mensole a forma di nuvola sono così morbide e ora incollerò delle nuvole rosa saranno degli scaffali celestiali il pavimento sarà ricoperto da un morbido tappeto Susi dammi un pennarello e un coltello farò un albero di polistirolo fantastico lo dipingo io il tuo albero è nelle mani della miglior pittrice dipingiamo ogni singolo ramo fatto grazie Susi ma dove posso metterlo? in quell'angolo laggiù a questo cielo manca qualcosa giusto le mie foto sono la cosa migliore con cui puoi decorare qualsiasi cielo Steve ma che fai? è il castello di mia sorella non ci saranno foto di te qui sono stufa di quel dicipite perfetto gli scaffali del castello saranno decorati con foto di mia sorella non fermarti Alex servono altre nuvole lungo il perimetro il legno sarà un appendino perfetto per una piccola principessa il soffitto è finito siamo stati bravissimi ragazzi colpa mia passiamo al design degli esterni guardate il castello si è illuminato come per magia aggiungiamo le cime delle torri impeccabili e dipingiamole di giallo mancano le modanature hai tralasciato quel pezzo Susy Steve non stai facendo proprio niente ma che vuoi dire? sto mangiando un gelato bella idea è ora di fare un cono di waffle entrate nel forno oh che profumino ragazzi ecco i vostri coni un enorme cono da gelato no Steve non è è uno snack per il tetto anche i coni devono essere rosa Alex usa la bolla non farlo storto beh Steve ecco vai a comprare lo scivolo capito? consideralo fatto toc toc lo scivolo è qui oh grazie Steve è perfetto polizia stiamo cercando il nostro scivolo è stato rubato oh non l'ho rubato mi dispiace rispondete a questo cos'è? questo è il nostro simpatico scivolo arcobaleno era così quando l'abbiamo comprato rivoglio i miei soldi truffatore abbiamo quasi finito non ci resta che montare le tende per la nostra principessa e poi mettere i giocattoli preferiti di Mila e naturalmente una corona un orsacchiotto e lenzuola morbide siamo stati fantastici oh sono arrivati dobbiamo andare ragazzi ecco come ho costruito il castello ben fatto ragazzo oh grazie papà mi piace tutto questo una scala che porta a dritta il cielo e le mie nuvole e persino uno scivolo con l'arcobaleno sono una vera principessa un'arcobaleno un'arcobaleno